Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nel nostro consueto spazio dedicato al motociclismo in Campania. Starbikers che questa settimana, ve l'avevo anticipato la puntata scorsa, raggiunge il traguardo delle 500 puntate. Per noi è un momento molto importante, siamo nati nel 2001 come molti di voi sapranno, andiamo avanti da 14 anni. Io devo dire innanzitutto grazie, ho fatto una lista, non potrò citarli tutti, innanzitutto grazie agli aziende, agli sponsor di Starbikers per questo obiettivo raggiunto. Grazie anche agli editori delle emittenti Canale 8 e Telecolore, i fratelli Romano, ma non dimentico la signora Albano, sempre molto gentile e cordiale con noi. Ma anche agli editori di Telecolore con il nostro amico Antonio De Simone che ha sempre creduto e appoggiato il nostro progetto. E poi c'è da dire grazie allo staff tecnico di Starbikers, ma soprattutto agli amici che questi 14 anni ci hanno supportato, dandoci consigli, facendoci anche qualche critica, perché no, quelle sono sempre costruttive. Ma soprattutto grazie a tutti per il supporto, a tutti voi che ci seguite ogni settimana da casa e che vivete insieme a noi la passione per il motociclismo. Veramente grazie a tutti.